Salve amici, siamo i giocatori per caso. Facciamo un'altra sfida della settimana 6 e vi ricordo che le stiamo mettendo tutte le sfide, per cui iscrivetevi al nostro canale per vederle tutte. Recupera salute riposando in una tenda. Sfida velocissima da fare, semplice. Le tende si trovano ormai un po' ovunque. Ci sono alcune città dove le tende sono fisse, ma secondo me vi conviene farlo man mano che giocate, tanto è una cosa talmente semplice che non vale neanche la pena perderci tempo. Io ero condotti confusi, ho trovato la mia bella tenda e adesso mi preparo per questo incarico. Quindi cosa fare una volta che l'avete trovata? Dovete semplicemente farvi del danno, possibilmente da soli perché se qualcuno vi spara rischiate di morire, quindi costruite una rampa e vi buttate giù. Vi stortate una caviglia, vi spaccate una gamba, quello che volete. Io mi sono fatto quasi 40 punti danno, non abbastanza. Secondo me risaliamo. In realtà era più che sufficiente, ma io voglio fare le cose per bene. A questo punto buttate la tenda, vedete, col tasto F riposa, quello che in realtà fa il personaggio è entrare e farsi un pisolino e recupera vita. Quindi in questo modo avete recuperato la vita e avete finito questo incarico. Come vedete è veramente semplice. Vi fate un danno, buttate una tenda per terra, entrate e la sfida è finita. Bene, adesso mettiamo anche le altre di questa settimana. A dopo! Se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche. Grazie. 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 Grazie.